pirandello scialle nero aspetta qua disse il bandial d'andrea vado a prevenirla se sostina ancora entrerai per forza miopi tutte e due parlavano vicinissimi in piedi l'uno di fronte all'altro parevano fratelli della stessa età della stessa corporatura alti magri rigidi di quella rigidezza angustiosa di chi fa tutto a puntino con meticolosità ed era raro il caso che parlando così tra loro l'uno non aggiustasse all'altro col dito il sellino delle lenti sul naso o il nodo della cravatta sotto il mento oppure non trovando nulla da aggiustare non toccasse all'altro i bottoni della giacca parlavano del resto pochissimo e la tristezza taciturna della loro indole si mostrava chiaramente nello squallore dei loro volti cresciuti insieme avevano studiato aiutandosi a vicenda fino all'università dove poi l'uno si era laureato in legge l'altro in medicina divisi ora durante il giorno dalle diverse professioni sul tramonto facevano ancora insieme quotidianamente la loro passeggiata lungo il viale dall'uscita del paese si conoscevano così a fondo che bastava un lieve cenno uno sguardo una parola perché l'uno comprendesse subito il pensiero dell'altro di modo che quella loro passeggiata principiava ogni volta con un breve scambio di frasi e seguitavano poi in silenzio come se l'uno avesse dato all'altro da ruminare per un pezzo e andavano a testa bassa come due cavalli stanchi entrambi con le mani dietro la schiena a nessuno dei due veniva mai la tentazione di volgere un po il capo verso la ringhiera del viale per godere la vista dell'aperta campagna sottostante svariata di poggi e di valli e di piani col mare in fondo che si accendeva tutto agli ultimi fuochi del tramonto vista di tanta bellezza che pareva perfino incredibile che quei due vi potessero passare davanti così senza neppure voltarsi a guardare giorni addietro il bandi aveva detto al d'andrea eleonora non sta bene ed andrea aveva guardato negli occhi l'amico e compreso che il male della sorella doveva essere lieve vuoi che venga a visitarla dice di no e tutte e due passeggiando saranno messi a pensare con le ciglia aggrottate quasi per rancore a quella donna che aveva fatto loro da madre e a cui dovevano tutto il d'andrea aveva perduto da ragazzo i genitori ed era stato accolto in casa ad uno zio che non avrebbe potuto in alcun modo provvedere alla riuscita di lui eleonora bandi rimasta orfana anch'essa a 18 anni col fratello molto più piccolo di lei industriandosi dapprima con minute e sagge economie su quel po che le avevano lasciato i genitori poi lavorando dando lezioni di pianoforte e di canto aveva potuto mantenere gli studi il fratello e anche l'amico indivisibile di lui in compenso però soleva dire ridendo ai due giovani mi sono presa tutta la carne che manca a voi due era infatti un donnone che non finiva mai ma aveva tuttavia dolcissimi i lineamenti del volto e l'aria ispirata di quegli angeloni di marmo che si vedono nelle chiese con le tuniche svolazzanti e lo sguardo dei begli occhi neri che le lunghe ciglia quasi vellutavano e il suono della voce armoniosa pareva volessero anch'essi attenuare con un certo studio che le dava pena l'impressione d'alterigia che quel suo corpo così grande poteva destare sulle prime e ne sorrideva mestamente sonava e cantava forse non molto correttamente ma con foga appassionata se non fosse nata e cresciuta fra i pregiudizi di una piccola città e non avesse avuto l'impedimento di quel fratellino si sarebbe forse avventurata alla vita di teatro ed era quello un tempo il suo sogno nient'altro che un sogno però aveva ormai circa 40 anni la considerazione del resto di cui godeva in paese per quelle sue doti artistiche la compensava almeno in parte del sogno fallito e la soddisfazione d'averne invece attuato un altro quello cioè d'aver schiuso col proprio lavoro l'avvenire a due poveri orfani la compensava del lungo sacrificio di se stessa il dottor d'andrea attese un buon pezzo nel salotto che l'amico ritornasse a chiamarlo quel salotto pieno di luce quantunque dal tetto basso arredato di mobili già consunti l'antica foggia respirava quasi un'aria d'altri tempi e pareva pagasse nella quiete dei due grandi specchi a riscontro dell'immobile visione della sua antichità scolorita i vecchi ritratti di famiglia appesi alle pareti erano là dentro i veri e soli inquilini di nuovo c'era soltanto il pianoforte a mezza coda il pianoforte delle onora che le figure figiate in quei ritratti pareva guardassero in cagnesco spazientito alla fine dalla lunga attesa il dottore si alzò andò fino alla soglia sporse il capo udi piangere nella camera di là attraverso l'uscio chiuso allora si mosse e andò a picchiare con le nocche delle dita a quell'uscio entra gli disse il bandi aprendo non riesco a capire perché sostina così ma perché non ho nulla gridò eleonora tra le lacrime stava a sedere su un ampio seggiolone di cuoio vestita come sempre di nero enorme e pallida ma sempre con quel suo viso da bambinona che ora pareva più che mai strano e forse più ambiguo che strano per un certo indurimento degli occhi quasi di folle fissità che la voleva tuttavia dissimulare non ho nulla va sicuro ripete più pacatamente per carità lasciatemi in pace non vi date pensiero di me va bene concluse il fratello duro e cociuto intanto qua c'è carlo lo dirà lui quel che hai e uscì dalla camera richiudendo con furia l'uscio dietro di sé eleonora si recò le mani al volto e scoppiò in violenti singhiozzi ed andrea rimase un pezzo a guardarla frasseccato e imbarazzato poi domandò perché che cosa non può dirlo neanche a me e come eleonora seguitava a singhiozzare ne s'appressò provò a scostarle con fredda delicatezza una mano dal volto si calmi via lo dica a me ci sono qua io eleonora scosse il capo poi d'un tratto afferrò con tutte e due le mani la mano di lui contraste il volto come per un fitto spasimo e gemette carlo carlo ed andrea si chinò su di lei un po impacciato nel suo rigido contegno mi dica e l'allora gli appoggiò una guancia sulla mano e pregò disperatamente a bassa voce fammi fammi morire carlo aiutami tu per carità non trovo il modo mi manca il coraggio la forza morire domandò il giovane sorridendo che dice perché morire sì rispose lei soffocata dai singhiozzi insegnami tu il modo tu sei medico toglimi da questa agonia per carità devo morire non c'è altro rimedio per me la morte sola e gli la fissò stupito anche lei alzò gli occhi a guardarlo ma subito li richiuse contraendo di nuovo il volto e restringendosi in sé quasi colta da improvviso vivissimo ribrezzo sì sì disse poi risolutamente io sì carlo perduta perduta istintivamente l'andrea ritrasse la mano che la teneva ancora tra le sue come che dice balbettò senza guardarlo e si pose un dito sulla bocca poi indicò la porta se lo sapesse non dirgli nulla per pietà fammi prima morire dammi dammi qualche cosa la prenderò come una medicina crederò che sia una medicina che mi dai tu purché sia subito non ho il coraggio non ho il coraggio da due mesi vedi mi dibatto in quest'agonia senza trovar la forza il modo di farla finita che aiuto puoi darmi tu carlo che dici che aiuto ripete il d'andrea ancora smarrito nello stupore eleonora stese di nuovo le mani per prendergli un braccio e guardandolo con occhi supplichevoli soggiunse se non vuoi farmi morire non potresti in qualche altro modo salvarmi il d'andrea a questa proposta si irrigidì più che mai agglottando severamente le ciglia te ne scongiuro carlo insistete lei non per me non per me ma perché giorgio non sappia se tu credi che io abbia fatto qualche cosa per voi per te aiutami ora salvami devo finir così dopo aver fatto tanto dopo aver tanto sofferto così in questa ignominia alla mia età che miseria che orrore ma come eleonora lei com'è stato chi è stato fece il d'andrea non trovando di fronte alla tremenda ambascia di lei che questa domanda per la sua curiosità sbigottita di nuovo eleonora indicò la porta e si coprì il volto con le mani non mi ci far pensare non posso pensarci dunque non vuoi risparmiare a giorgio questa vergogna e come domandò il d'andrea delitto sa sarebbe un doppio delitto piuttosto mi dica non si potrebbe in qualche altro modo rimediare no risposerei recisamente infoscandosi basta ho capito lasciami non ne posso più abbandonò il capo sulla spalliera del seggiolone rilassò le membra sfinita carlo d'andrea con gli occhi fissi dietro le grosse lenti da miope attese un pezzo senza trovare parole non sapendo ancora credere a quella rivelazione ne riuscendo a immaginare come mai quella donna finora esempio specchio di virtù la pregazione fosse potuta cadere nella colpa possibile eleonora bandi ma se aveva in gioventù per amore del fratello rifiutato tanti partiti uno più vantaggioso dell'altro come mai ora che la gioventù era tramontata ma forse per questo la guardò e il sospetto di fronte a quel corpo così voluminoso assunse all'improvviso agli occhi di lui magro un aspetto orribilmente sconcio e osceno va dunque gli disse un tratto irritata eleonora che pur senza guardarlo in quel silenzio si sentiva addosso l'inerte orrore di quel sospetto negli occhi di lui va va a dirlo a giorgio perché faccia subito di me quello che vuole va d'andrea uscì quasi automaticamente e la sollevò un poco il capo per vederlo uscire poi appena richiuso l'uscio ricadde nella positura di prima dopo due mesi d'orrenda angoscia quella confessione del suo stato la sollevò insperatamente le parve che il più ormai fosse fatto ora non avendo più forza di lottare di resistere a quello strazio si sarebbe abbandonata così alla sorte qualunque fosse il fratello tra breve sarebbe entrato e l'avrebbe uccisa ebbene tanto meglio non aveva più diritto a nessuna considerazione a nessun compatimento aveva fatto sì per lui e per quell'altro ingrato più del suo dovere ma in un momento poi aveva perduto il frutto di tutti i suoi benefizi stizzò gli occhi colte di nuovo dal ribrezzo nel segreto della propria coscienza si sentiva pure miseramente responsabile del suo fallo sì lei lei che per tanti anni aveva avuto la forza di resistere agli impulsi della gioventù lei che aveva sempre accolto in sé sentimenti puri e nobili lei che aveva considerato il proprio sacrificio come un dovere in un momento perduta oh miseria miseria l'unica ragione che sentiva di poter addurre in sua discolpa che valore poteva avere davanti al fratello poteva dirgli guarda giorgio che sono forse caduta per te eppure la verità era forse questa mi aveva fatto da madre è vero a quel fratello ebbene in premio di tutti i benefici liatamente prodigati in premio del sacrificio della propria vita non le era stato concesso neanche il piacere di scorgere un sorriso anche lieve di soddisfazione sulle labbra di lui e dell'amico pareva che avessero entrambi l'anima avvelenata di silenzio e di noia oppressa come da una scimunita angustia ottenuta la laurea saranno subito buttati al lavoro come due bestie con tanto impegno con tanto accanimento che in poco tempo erano riusciti a bastare a se stessi ora questa fretta di sdebitarsi in qualche modo come se entrambi non ne paresse l'ora l'aveva proprio ferita nel cuore quasi d'un tratto così era trovata senza più scopo nella vita che le restava da fare ora che i due giovani non avevano più bisogno di lei e aveva perduto irrimediabilmente la gioventù neanche coi primi guadagni della professione era tornato il sorriso sulle labbra del fratello sentiva forse ancora il peso del sacrificio che l'aveva fatto per lui si sentiva forse vincolato da questo sacrificio per tutta la vita condannato a sacrificare a sua volta la propria gioventù la libertà dei propri sentimenti alla sorella e aveva voluto parlargli a cuore aperto non prenderti nessun pensiero di me Giorgio io voglio soltanto vederti lieto contento capisci? ma egli aveva troncato subito in bocca le parole zitta zitta che dici? so quel che devo fare ora aspetta a me ma come? così avrebbe voluto gridargli lei che senza pensarci due volte sarà sacrificata col sorriso sempre sulle labbra e il cuor leggero conoscendola chiusa dura ostinazione di lui non aveva insistito ma intanto non si sentiva di durare in quella tristezza soffocante egli raddoppiava di giorno in giorno i guadagni della professione la circondava d'agi aveva voluto che smettesse di dar lezioni in quell'ozio forzato che la avviliva aveva allora accolto malauguratamente un pensiero che da principio quasi l'aveva fatta ridere se trovassi marito ma aveva già trentanove anni e poi con quel corpo ovvia avrebbe dovuto fabbricarselo apposta un marito eppure sarebbe stato l'unico mezzo per liberarsi il fratello da quell'opprimente debito di gratitudine quasi senza volerlo sarà messa allora a curare insolitamente la persona assumendo una certaria di nubile che prima non si era mai data quei due o tre che un tempo l'avevano chiesta in matrimonio avevano ormai moglie e figliuoli prima non se n'era mai curata ora a ripensarci ne provava dispetto provava invidia di tante sue amiche che erano riuscite a procurarsi uno stato lei sola era rimasta così ma forse era in tempo ancora chissà doveva proprio chiudersi così la sua vita sempre attiva in quel vuoto doveva spegnersi così quella fiamma vigile del suo spirito appassionato in quell'ombra e un profondo rammarico l'aveva invasa inasprito talvolta da certe smanie che alteravano le sue grazie spontanee il suono delle sue parole delle sue risa era divenuta pungente quasi aggressiva nei discorsi si rendeva conto lei stessa del cangiamento della propria indole provava in certi momenti quasi odio per se stessa repulsione per quel suo corpo vigoroso ribrezzo dei desideri insospettati in cui esso ora all'improvviso le s'accendeva turbandola profondamente il fratello intanto con risparmi aveva di recente acquistato un podere e vi aveva fatto costruire un bel villino spinta da lui vi era andata dapprima per un mese in villeggiatura poi riflettendo che il fratello aveva forse acquistato quel podere per sbarazzarsi di tanto in tanto di lei aveva deliberato di ritirarsi colà per sempre così lo avrebbe lasciato libero del tutto non gli avrebbe più dato la pena della sua compagnia della sua vista e anche lei a poco a poco là si sarebbe tolta quella strana idea dal capo di trovare marito all'età sua i primi giorni erano trascorsi bene e aveva creduto che le sarebbe stato facile seguitare così aveva già preso l'abitudine di levarsi ogni giorno all'alba e di fare una lunga passeggiata per i campi fermandosi di tratto in tratto incantata ora per ascoltare nell'attonito silenzio dei piani dove qualche filo d'erba vicino abbrividiva alla frescura dell'aria il canto dei galli che si chiamavano da un'aia all'altra ora per ammirare qualche masso tigrato di gromme verdi o il velluto dell'ichene sul vecchio tronco stravolto di qualche olivo saraceno ah lì così vicino alla terra si sarebbe presto rifatta un'altra anima un altro modo di pensare di sentire sarebbe divenuta come quella buona moglie del mezzadro che si mostrava così lieta di tenerle compagnia e che già le aveva insegnato tante cose della campagna tante cose pur così semplici della vita e che ne rivelano tuttavia un nuovo senso profondo inaspettato il mezzadro invece era insoffribile si vantava ad aver idee larghe lui aveva girato il mondo lui era stato in america otto anni a benossaire e non voleva che il suo unico figliuolo gerlando fosse un vile zappaterra da tredici anni pertanto lo manteneva alle scuole voleva dargli un po' di lettera diceva per poi spedirlo in america là nel grande paese dove senza dubbio avrebbe fatto fortuna gerlando aveva diciannove anni e in tredici di scuola era arrivato appena alla terza tecnica era un ragazzone rude tutto ad un pezzo quella fissazione del padre costituiva per lui un vero martirio praticando coi compagni di scuola aveva preso senza volere una certa aria di città che però lo rendeva più goffo a forza d'acqua ogni mattina riusciva ad assettarsi i capelli ispidi a tirarvi una riga da un lato ma poi coi capelli rasciugati gli sidrizzavano compatti e rsuti di qua e di là come se gli schizzassero dalla cute del cranio anche le sopracciglia pareva gli schizzassero poco più giù dalla fronte bassa e già dal labbro e dal mento cominciavano a schizzare i primi peli dei baffi e della barba a cespuglietti povero gerlando faceva compassione così grosso così duro così ispido con un libro aperto davanti il padre doveva sudare una camicia certe mattine per scuoterlo dai saporiti sonni profondi di porcellone satollo e pago e avviarlo ancora intontito e barcollante con gli occhi imbambolati alla vicina città al suo martirio venuta in campagna la signorina gerlando le aveva fatto rivolgere dalla madre la preghiera di persuadere al padre che la smettesse di tormentarlo con questa scuola con questa scuola con questa scuola non ne poteva più e difatti Eleonora si era trovata a intercedere ma in mezzadro oh no 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 ossequio il rispetto tutto il rispetto per la signorina ma anche la preghiera di non immischiarsi e allora essa un po' per pietà un po' per ridere un po' per darsi da fare si era messa ad aiutare quel povero giovanotto fin dove poteva lo faceva ogni dopo pranzo venire su coi libri e i quaderni della scuola egli saliva impacciato e vergognoso perché si accorgeva che la padrona prendeva a godersero per la sua valordaggine per la sua durezza di mente ma che poteva farci il padre voleva così per lo studio sì bestia non aveva difficoltà a riconoscerlo ma se si fosse trattato d'atterrare un albero un bue per bacco ghirlando mostrava le braccia nerborute con certi occhi teneri e un sorriso di denti bianchi e forti improvvisamente da un giorno all'altro ella aveva truncato quelle lezioni non aveva più voluto vederlo sarà fatto portare in città con il pianoforte e per parecchi giorni sarà chiusa nella villa a sonare a cantare a leggere smaniosamente una sera infine sarà accorta che quel ragazzone privato così d'un tratto dell'aiuto di lei della compagnia che ella gli concedeva e degli scherzi che si permetteva con lui s'appostava per spiarla per sentirla cantare o sonare e cedendo a una cattiva ispirazione aveva voluto sorprenderlo lasciando d'un tratto il pianoforte e scendendo a precipizio la scala della villa che fai lì sto a sentire ti piace tanto signorina mi sento in paradiso a questa dichiarazione era scoppiata a ridere ma all'improvviso gerlando come sferzato in faccia da quella risata l'era saltato addosso lì dietro la villa nel buio fitto oltre la zona della luce che veniva dal balcone aperto lassù così era stato sopraffatta a quel modo non aveva saputo respingerlo sarà sentita mancare non sapeva più come sotto quell'impeto brutale e sarà abbandonata sì cedendo pur senza voler concedere il giorno dopo aveva fatto ritorno in città e ora come mai Giorgio non entrava a svergognarla forse D'Andrea non gli aveva detto ancora nulla forse pensava al modo di salvarla ma come e nascose il volto tra le mani quasi per non vedere il vuoto che le sapriva davanti ma era pur dentro di lei quel vuoto non c'era rimedio la morte sola quando come l'uscio a un tratto s'aprì e Giorgio apparve sulla soglia scontraffatto pallidissimo coi capelli scompigliati e gli occhi ancora rossi di pianto e D'Andrea lo teneva per un braccio voglio sapere questo soltanto disse alla sorella a denti stretti con voce fischiante quasi scandendo le sillabe voglio sapere chi è stato e l'onora capochino con gli occhi chiusi scosse lentamente il capo e riprese a singhiozzare me lo dirai gridò il bandi appressandosi trattenuto dall'amico e chiunque sia tu lo sposerai ma no Giorgio gemette lei raffondando via più il capo e torcendosi in grembo le mani no non è possibile non è possibile è ammogliato domanda lui appressandosi di più coi pugni serrati terribile no si affrettò a rispondere lei ma non è possibile credi chi è riprese il brandi tutto offremente stringendola da presso chi è subito il nome sentendosi addosso la furia del fratello Eleonora si strinse nelle spalle si provò a sollevare appena il capo e gemette sotto gli occhi inferociti di lui non posso dirtelo il nome o t'ammazzo ruggì allora il brandi levando il pugno sul capo di lei ma il D'Andrea si interpose scostò l'amico poi gli disse severamente tu va lo dirai a me va va e lo fece uscire a forza dalla camera il fratello fu irremovibile nei pochi giorni che occorsero per le pubblicazioni di rito prima del matrimonio saccanì nello scandalo per prevenir le beffe che si aspettava da tutti prese ferocemente il partito d'andar sbandendo la sua vergogna con orribili crudezze di linguaggio pareva impazzito e tutti lo commiseravano gli toccò tuttavia a combattere un bel poco il mezzadro per farlo condicendere alle nozze del figliuolo quantunque di idee larghe il vecchio dapprima parve cascasse dalle nuvole non voleva creder possibile una cosa simile poi disse vossignoria non dubiti me lo pesterò sotto i piedi sa come come si pigia l'uva o piuttosto facciamo così glielo consegno legato mani e piedi e vossignoria si prenderà tutta quella soddisfazione che vuole il nerbo per le nerbate glielo procuro io e glielo tengo prima apposta tre giorni in molle perché picchi più sodo quando però comprese che il padrone non intendeva questo ma voleva altro il matrimonio trasecolò di nuovo come che dice vossignoria una signorona di quella fatta col figlio d'un vile zappaterra e oppose un reciso rifiuto mi perdoni ma la signorina aveva il giudizio e l'età conosceva il bene e il male non doveva far mai con mio figlio quello che fece devo parlare e lo tirava su in casa tutti i giorni vossignoria mi intende un ragazzaccio a quell'età non si ragiona non si vada ora ci posso perdere così il figlio che dio sa quanto mi costa la signorina con rispetto parlando gli può essere madre e bandi dovette promettere l'accessione in dote del podere e un assegno giornaliero alla sorella così il matrimonio fu stabilito e quando ebbe luogo fu un vero avvenimento per quella cittaduzza parve che tutti provassero un gran piacere nel far pubblicamente strazio dell'ammirazione del rispetto per tanti anni tributati a quella donna come se tra l'ammirazione e il rispetto di cui non la stimavano più degna e il dileggio con cui ora la accompagnavano a quelle nozze vergognose non ci potesse essere posto per un po' di commiserazione la commiserazione era tutta per il fratello e quale si intende non volle prendere parte alla cerimonia non vi prese parte neanche il D'Andrea scusandosi che doveva tenere compagnia in quel triste giorno al suo povero Giorgio un vecchio medico della città che era tastato di casa dei genitori di Leonora e a cui il D'Andrea venuto di fresco dagli studi con tutti i fumi e la sofisticheria della nuovissima terapeutica aveva tolto gran parte della clientela si profferse per testimonio e condusse con sé un altro vecchio suo amico per secondo testimonio con essi Eleonora si recò in vettura chiusa al municipio poi in una chiesetta fuori mano per la cerimonia religiosa in un'altra vettura era lo sposo Gerlando torbido e ingrugnato coi genitori questi parati a festa stavano su di sé gonfi e seri perché alla fin fine il figlio sposava una vera signora sorella di un avvocato e gli ricava in dote una campagna con una magnifica villa e denari per giunta Gerlando per rendersi degno del nuovo stato avrebbe seguitato gli studi al podere avrebbe atteso lui il padre che se ne intendeva e la sposa era un po' anzianotta tanto meglio l'erede già c'era per via per legge di natura ella sarebbe morta prima e Gerlando allora sarebbe rimasto libero e ricco queste consimili riflessioni facevano anche in una terza vettura i testimoni dello sposo contadini amici del padre in compagnia di due vecchi zii materni e altri parenti e amici dello sposo innumerevoli attendevano nella villa tutti parati a festa con gli abiti di panno turchino i uomini con le mantelline nuove e i fazzoletti dai colori più sgargianti le donne giacché il mezzadro di idee larghe aveva preparato un trattamento proprio coi fiocchi al municipio Eleonora prima di entrare nell'aula dello stato civile fu assalita da una convulsione di pianto lo sposo che si teneva discosto in crocchio coi parenti fu spinto da questi ad accorrere ma il vecchio medico lo pregò di non farsi scorgere di star lontano per il momento non ben rimessa ancora da quella crisi violenta Eleonora entrò nell'aula si vide accanto quel ragazzo che l'impaccio e la vergogna rendevano più ispido e goffo ebbe un impeto di ribellione fu per gridare no no e lo guardò come per spingerlo a gridare così anche lui ma poco dopo dissero sì tutti e due come condannati a una pena inevitabile sbrigata in gran fretta l'altra funzione nella chiesetta solitaria il triste corteo si avviò alla villa Eleonora non voleva staccarsi dai due vecchi amici ma le fu forza a salire in vettura con lo sposo e coi suoceri strada facendo non fu scambiata una parola nella vettura il mezzadro e la moglie parevano sbigottiti alzavano di tanto in tanto gli occhi per guardar di sfuggita la nuora poi si scambiavano uno sguardo a riabbassavano gli occhi lo sposo guardava fuori tutto ristretto in sé aggrottato in villa furono accolti con uno strepitoso sparo di mortaretti e grida festose e battimani ma l'aspetto e il contegno della sposa raggelarono tutti i convitati per quanto ella si provasse anche a sorridere a quella buona gente che intendeva farle festa a modo suo come usa negli sposalizi chiese presto licenza di ritirarsi sola ma nella camera in cui aveva dormito durante la villeggiatura trovando apparecchiato il letto nuziale si arrestò di botto sulla soglia lì con lui no mai 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 presa da ribrezzo scappò in un'altra camera vi si chiuse a chiave cadde a sedere su una seggiola premendosi forte forte il volto con tutte e due le mani e giungevano attraverso l'uscio le voci le risa dei convitati che aizzavano di là Gerlando lodandogli più che la sposa il buon parentado che aveva fatto e la bella campagna Gerlando se ne stava affacciato al balcone e per tutta risposta pieno d'onta scrollava di tratto in tratto le poderose spalle ecco onta sì provava onta d'essere marito a quel modo di quella signora ecco e tutta la colpa era del padre il quale per quella maledetta fissazione della scuola lo aveva fatto trattare a modo di un ragazzaccio stupido inetto dalla signorina venuta in villeggiatura abilitandola a certi scherzi che lo avevano ferito ed ecco intanto quel che ne era venuto il padre non pensava che alla bella campagna ma lui come avrebbe vissuto d'ora in poi con quella donna che gli incuteva tanta soggezione e che certo gliene voleva per la vergogna e il disonore come avrebbe ardito ad alzar gli occhi in faccia a lei e per giunta il padre pretendeva che gli seguitasse a frequentarla a scuola figurarsi la vaia che gli avrebbero data ai compagni aveva venti anni più di lui la moglie e pareva una montagna pareva mentre Gerlando si travagliava con queste riflessioni il padre e la madre attendevano gli ultimi preparativi del pranzo finalmente l'uno e l'altra entrarono trionfanti nella sala dove già la mensa era apparecchiata il servizio da tavola era stato fornito per l'avvenimento da un trattore della città che aveva anche inviato un cuoco e due camerieri per servire il pranzo il mezzatro venne a trovare Gerlando al balcone e gli disse va ad avvertire tua moglie che a momenti sarà pronto non ci vado gnornò grugnì Gerlando pestando un piede andateci voi aspetta a te sommarone gli disse il padre tu sei il marito va ponte grazie gnornò non ci vado ripete Gerlando cocciuto schermendosi allora il padre il grato lo tirò per il bavero della giacca e gli diede uno spintone ti vergogni bestione ti ci sei messo prima e ora ti vergogni va è tua moglie i convitati accorsero a mettere pace a persuadere Gerlando ad andare che male c'è e dirai che venga a prendere un boccone ma se non so neppure come debba chiamarla gridò Gerlando esasperato alcuni convitati scoppiarono a ridere altri furono pronti a trattenere il mezzadro che si era lanciata per schiaffeggiare il figlio imbecille e gli guastava così la festa preparata con tanta solennità e tanta spesa la chiamerai col suo nome di battesimo gli diceva intanto piano e persuasiva la madre come si chiama Eleonora è vero e tu chiamala Eleonora non è tua moglie va figliuolo mio va e così dicendo lo avviò alla camera nuziale Gerlando andò a picchiare all'uscio picchiò una prima volta piano attese silenzio come le avrebbe detto doveva proprio darle del tu così alla prima ah maledetto impaccio e perché intanto ella non rispondeva forse non aveva inteso ripicchiò più forte attese silenzio allora tutto impacciato si provò a chiamare a bassa voce come gli aveva suggerito la madre ma gli venne fuori una Eleonora così ridicolo e subito come per cancellarlo chiamò forte Franco Eleonora intese alla fine la voce di lei che domandava dietro l'uscio di un'altra stanza chi è si appressò a quell'uscio col sangue tutto rimescolato e io disse io Gerlando è pronto non posso rispose lei fate senza di me Gerlando tornò in sala sollevato da un gran peso non viene dice che non viene non può venire viva il bestione esclamò allora il padre che non lo chiamava altrimenti le hai detto che era in tavola e perché non l'hai forzata a venire la moglie si interpose fece intendere al marito che sarebbe stato meglio forse lasciare in pace la sposa per quel giorno i convitati approvarono l'emozione il disagio si sa ma è mezzadro che sarà inteso di dimostrare alla nuora che all'occorrenza sapeva far l'obbligo suo rimase imbronciato e ordinò con malagrazia che il pranzo fosse servito c'era il deciderio dei piatti fini ancora sarebbero venuti in tavola ma c'era anche in tutti quei convitati una seria costernazione per tutto quel superfluo che vedevano luccicar sulla tovaglia nuova che li abbagliava quattro bicchieri di diversa forma e forchette e forchettine coltelli e coltellini e certi pennini poi dentro gli involtini di carta velina seduti ben discosti dalla tavola sudavano anche per i grevi abiti di panno della festa e si guardavano nelle facce dure arsicce svisate dall'insolita pulizia e non osavano alzar le grosse mani sformate dai lavori della campagna per prender quelle forchette d'argento la piccola o la grande e quei coltelli sotto gli occhi dei camerieri che girando coi serviti con quei guanti di filo bianco incutevano loro una terribile soggezione il mezzatro intanto mangiando guardava il figlio e scrollava il capo col volto atteggiato di derisoria commiserazione guardatelo guardatelo borbotava tra sé che figura ci fa lì solo spaiato a capotavola come potrà la sposa aver considerazione per uno scimmione così fatto ha ragione ha ragione di vergognarsi di lui se fossi stato io al posto suo finito il pranzo fra la busoneria generale i convitati con una scusa o con l'altra andarono via era già quasi sera e ora disse il padre a Gerlando quando i due camerieri finirono di sparecchiare la tavola e tutto nella villa ritornò tranquillo che farai ora te la sbroglierai tu e ordinò alla moglie di seguirlo nella casa colonica dove abitavano poco discosto dalla villa rimasto solo Gerlando si guardò intorno aggrondato non sapendo che fare sentì nel silenzio la presenza di quella che se ne stava chiusa di là forse or ora non sentendo più alcun rumore sarebbe uscita dalla stanza che avrebbe dovuto far lui allora come volentieri se ne sarebbe scappato a dormire nella casa colonica presso la madre o anche giù all'aperto sotto un albero magari e se lei intanto s'aspettava ad essere chiamata si era assegnata alla condanna che aveva voluto infliggerle il fratello si riteneva in potere di lui suo marito e aspettava che egli la sì la invitasse a tese l'orecchio ma no tutto era silenzio forse si era già addormentata era già buio il lume della luna entrava per il balcone aperto nella sala senza pensare ad accendere il lume Gerlando prese una sedia e si recò a sedere al balcone che guardava tutto intorno dall'alto l'aperta campagna declinante al mare laggiù in fondo lontano nella notte chiara splendevano limpide le stelle maggiori la luna accendeva sul mare una fervida fascia d'argento dai vasti piani gialli di stoppia si levava a tremulo il canto dei grilli come un fitto continuo scampanellio a un tratto un assivuolo da presso emise un chiù languido accorante da lontano un altro gli rispose come un eco e tutte e due si aguitarono per un pezzo a singultar così nella chiara notte con un braccio appoggiato alla ringhiera del balcone egli allora istintivamente per sottrarsi all'oppressione di quell'incertezza smaniosa fermò l'udito a quei due chiù e si rispondevano nel silenzio incantato della luna poi scorgendo laggiù in fondo un tratto del muro che cingeva tutto intorno il potere pensò che ora tutta quella terra era sua suoi quegli alberi olivi mandorli carrubi fichi gelsi sua quella vigna aveva ben ragione d'esserne contento il padre che d'ora in poi non sarebbe stato più soggetto a nessuno alla fin fine non era tanto stramba l'idea di fargli seguitare gli studi meglio lì meglio a scuola che qua tutto il giorno in compagnia della moglie a tenere a posto quei compagni che avessero voluto ridere alle sue spalle ci avrebbe pensato lui era un signore ormai e non gli importava più se lo cacciavano via dalla scuola ma questo non sarebbe accaduto anzi egli si proponeva di studiare d'ora innanzi con impegno per poter un giorno tra breve figurare tra i galantuomini del paese senza più sentirne soggezione e parlare e trattare con loro da pari a pari gli bastavano altri quattro anni di scuola per avere la licenza dell'istituto tecnico e poi perito agronomo o ragioniere suo cognato allora il signor avvocato che pareva avesse buttato là ai cani la sorella avrebbe dovuto fargli tanto di cappello sì signore e allora egli avrebbe avuto tutto il diritto di dirgli che mi hai dato a me quella vecchia e ho studiato ho una professione da signore e potevo aspirare a una bella giovane ricca e di buoni natali come lei così pensando si addormentò con la fronte sul braccio appoggiato alla ringhiera i due chiù seguitavano l'uno qua presso l'altro lontano il loro alterno lamentì o voluttuoso la notte chiara pareva facesse tremolar sulla terra il suo velo di luna sonoro di grilli e arrivava ora da lontano come una scura rampogna il borboglio profondo del mare a notte avanzata Eleonora apparve come un'ombra sulla soglia del balcone non si aspettava di trovarsi il giovane addormentato ne provò pena e timore insieme rimase un pezzo a pensare se le convenisse svegliarlo per dirgli quanto aveva tra sé stabilito e toglierlo di lì ma sul punto di scuoterlo di chiamarlo per nome sentì mancarsi l'animo e si ritrasse pian piano come un'ombra nella camera d'onda era uscita l'intesa fu facile Eleonora la mattina dopo parlò maternamente a Gerlando lo lasciò padrone di tutto libero di fare quel che gli sarebbe piaciuto come se tra loro non ci fosse alcun vincolo per sé domandò solo di essere lasciata lì da canto in quella cameretta insieme con la vecchia serva di casa che l'aveva vista nascere Gerlando che a notte inoltrata si era tratto dal balcone tutto indurito dall'umido a dormire sul divano della sala da pranzo ora così sorpreso nel sonno con una gran voglia di stropicciarsi gli occhi coi pugni aprendo la bocca per lo sforzo da grottare le ciglia perché voleva mostrar non tanto di capire quanto da essere convinto disse a tutto di sì di sì col capo ma il padre e la madre quando seppero di quel patto montarono su tutte le furie e in vano Gerlando si provò a far intendere loro che gli conveniva così che anzi ne era più che contento per quietare in certo quel modo il padre dovette promettere formalmente che ai primi d'ottobre sarebbe ritornato a scuola ma per ripicco la madre gli impose di scegliersi la camera più bella per dormire la camera più bella per studiare la camera più bella per mangiare tutte le camere più belle e comanda tu a bacchetta sai se no vengo io a farti ubbidire e rispettare giurava infine che non avrebbe mai più rivolto la parola a quella smorfiosa che le disprezzava così il figlio un così bel pezzo di giovanotto che con lei non era neanche degna di guardare da quel giorno stesso Gerlando si mise a studiare a riprendere la preparazione interrotta per gli esami di riparazione era già tardi veramente aveva appena ventiquattro giorni innanzi a sé ma chissà mettendoci un po' d'impegno forse sarebbe riuscito a prendere finalmente quella licenza tecnica per cui si torturava da tre anni scosso lo sballordimento angoscioso dei primi giorni Eleonora per consiglio della vecchia serva si diede a preparare il corredino per il nascituro non ci aveva pensato e ne pianse Gesa la vecchia serva la aiutò la guidò in quel lavoro per cui era inesperta le diede la misura per le prime camicine per le prime cuffiette a sorte le servava questa consolazione e lei non ci aveva ancora pensato avrebbe avuto un piccino una piccina a cui attendere a cui consacrarsi tutta ma Dio doveva farle la grazia di mandarle un maschietto era già vecchia sarebbe morta presto come avrebbe lasciato a quel padre una femminuccia a cui lei avrebbe ispirato i suoi pensieri i suoi sentimenti un maschietto avrebbe sofferto meno di quella condizione d'esistenza in cui fra poco la mala sorte lo avrebbe messo angosciata da questi pensieri stanca dal lavoro per distrarsi prendeva in mano uno di quei libri che l'altra volta s'era fatti spedire dal fratello e si metteva a leggere ogni tanto accennando quel capo domandava alla serva che fa? Gesa si stringeva nelle spalle sporgeva il labbro poi rispondeva sta con la testa sul libro dorme pensa chissà pensava Gerlando pensava che tirate le somme non era molto allegra la sua vita ecco qua aveva il podere ed era come se non lo avesse la moglie è come se non l'avesse in guerra coi parenti arrabbiato con se stesso che non riusciva a ritenere nulla 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 di quanto studiava e in quell'ozio smanioso intanto si sentiva dentro come un fermento d'acri desideri tra gli altri quello della moglie perché gli s'era negata non era più desiderabile è vero quella donna ma chi patto era quello egli era il marito e doveva dirlo lui semmai si alzava usciva dalla stanza passava innanzi all'uscio della camera di lei ma subito intravedendola sentiva cadersi ogni proposito di ribellione sbuffava e tanto per non riconoscere che sul punto gliene mancava l'animo diceva a se stesso che non ne valeva la pena una di quei giorni finalmente tornò dalla città sconfitto bocciato bocciato ancora una volta gli esami di licenza tecnica e ora basta basta davvero non voleva più saperne prese libri quaderni disegni squadre astucci matite e li portò giù innanzi alla villa per farne un falò il padre accorse per impedirglielo ma gherlando in bestialito si ribellò lasciatemi fare sono il patrone sapravvenne la madre accorsero anche alcuni contadini che lavoravano nella campagna una fumicaia prima rada poi a mano a mano più densa si sprigionò tra le grida degli astanti da quel mucchio di carte poi un bagliore poi crepitò la fiamma e si levò alle grida si fecero al balcone e le onore alla serva gherlando livido e gonfio come un tattino scagliava alle fiamme scamiciato fu ribondo gli ultimi libri che teneva sotto il braccio gli strumenti della sua lunga inutile tortura e le onore si tenne a stento di ridere a quello spettacolo e si ritrasse in fretta dal balcone ma la suocera se ne accorse e disse al figlio ti prova gusto sai la signora la fai ridere piangerà gridò allora gherlando minaccioso levando il capo verso il balcone e le onore intese la minaccia e impallidi comprese che la stanca e maesta quiete di cui aveva goduto finora era finita per lei nient'altro che un momento di tregua gli aveva concesso la sorte ma che poteva voler da lei quel brutto ella era già esausta un altro colpo anche lieve l'avrebbe atterrata poco dopo si vede innanzi gherlando fosco e anzante si cangia vita da oggi le annunziò mi son seccato mi metto a fare il contadino come mio padre e dunque tu smetterai di far la signora costà via via tutta cotesta biancheria chi nascerà sarà contadino anche lui e dunque senza tanti lisci e tante gale licenzi alla serva farai tu da mangiare e baderai alla casa come fa mia madre inteso e le annunzze levò pallida e vibrante di sdegno tua madre e tua madre gli disse guardandolo fieramente negli occhi io sono io e non posso diventare con te villano villana mia moglie sei gridò allora gherlando appressandosi violento e afferrandola per un braccio e farai ciò che voglio io qua comando io capisci poi si volse alla vecchia serva e le indicò l'uscio via voi andate subito via non voglio serve per la casa vengo con te Gesa gridò Eleonora cercando di svincolare il braccio che egli le teneva ancora afferrato ma gherlando ma gherlando non glielo lasciò glielo strinse più forte la costrinse a sedere no qua tu rimarrai qua alla catena con me e io per te mi sono preso le beffe ora basta vieni via esci da codesto tuo covo non voglio più star solo a piangere la mia pena fuori fuori e la spinse fuori dalla camera e chi hai tu pianto finora mi disse lei con le lacrime agli occhi che ho preteso io da te che hai preteso di non aver molestie di non aver contatto con me quasi che io fossi che non meritassi confidenza da te matrona e mi hai fatto servire a tavola da una salariata mentre toccava a te servirmi di tutto punto come fanno le mogli che n'hai da fare tu di me mi domandò avvilita Eleonora ti servirò se vuoi con le mie mani d'ora in poi va bene ruppe così dicendo in singhiozzi poi sentì mancarsi le gambe e si abbandonò Gherlando smarrito confuso la sostenne insieme con Ghesa e tutte e due la adagiarono su una seggiola verso sera improvvisamente fu presa dalle doglie Gherlando pentito spaventato corse a chiamar la madre un garzone fu spedito in città per una levatrice mentre il mezzadro vedendo già in pericolo il potere se la nuora abortiva distrattava il figlio bestione bestione che hai fatto e se ti muore adesso e non hai più figli sei in mezzo a una strada che farai hai lasciato la scuola e non sai neppur tenere la zappa in mano sei rovinato che me ne importa gli dò Gherlando purché non abbia nulla da lei sopravvenne la madre con le braccia per aria un medico ci vuole subito un medico la vedo male che ha domandò Gherlando allibito ma il padre lo spinse fuori corri corri per via Gherlando tutto tremante si avvidì si mise a piangere sforzandosi tuttavia di correre a mezza strada si imbatté nella levatrice che veniva in vettura col garzone caccia caccia gridò vado per il medico muore e c'è un po stramazzò tutto impolverato riprese a correre disperatamente addentandosi la mano che s'era scorticata quando tornò col medico alla villa eleonora stava per morire dissanguata assassino assassino nicchiava Gher attendendo la padrona lui è stato ha osato di metterle le mani addosso e l'onora però negava col capo si sentiva a mano a mano col sangue mancar la vita a mano a mano le forze raffie volendo scemare era già fredda ebbene non si doleva di morire era pur dolce così la morte un gran sollievo dopo le atroci sofferenze e quel volto come dicera guardando il soffitto aspettava che gli occhi le si chiudessero da sé pian piano per sempre già non distingueva più nulla come in un sogno rivide il vecchio medico che le aveva fatto da testimonio e gli sorrise Gherlando non si staccò dalla sponda del letto né giorno né notte per tutto il tempo che Eleonora vigiacque tra la vita e la morte quando finalmente dal letto potessero messa a sedere sul seggiolone parve un'altra donna di afana quasi sangue si vide innanzi Gherlando che sembrava uscito anch'esso da una mortale malattia e premurosi attorno i parenti di lui lei guardava coi begli occhi neri ingranditi e dolenti nella pallida magrezza e le pareva che ormai nessuna relazione esistesse più tra essi e lei come se il fosse ora tornata nuova e diversa da un luogo remoto dove ogni vincolo fosse stato infranto non con essi soltanto ma con tutta la vita di prima respirava con pena ma ogni meno murmure il cuore ribalzava in petto e le batteva con tumultuosa repensa una stanchezza grave la opprimeva allora col capo abbandonato sulla spalliera del seggiolone gli occhi chiusi si rammaricava dentro di sé di non essere morta che stava più a farci lì perché ancora quella condanna per gli occhi di veder quei visi attorno a quelle cose da cui già si sentiva tanto tanto lontana perché quel ravvicinamento con le apparenze opprimenti e nauseanti della vita passata ravvicinamento che talvolta ne pareva diventasse più brusco come se qualcuno la spingesse di dietro per costringerla a vedere a sentir la presenza la realtà viva e spirante di quella vita odiosa che più non le apparteneva credeva fermamente che non si sarebbe rialzata mai più da quel seggiolone credeva che da un momento all'altro sarebbe morta di crepacuore e no invece dopo alcuni giorni poter levarsi in piedi muovere sorretta qualche passo per la camera poi col tempo anche scendere la scala e recarsi all'aperto a braccio di Gerlando e della serva presa infine l'abitudine di recarsi sul tramonto fino all'orlo del ciglione che limitava a mezzogiorno il podere s'apriva di là la magnifica vista della piaggia sottostante all'altipiano fino al mare laggiù vi si recò i primi giorni accompagnata al solito da Gerlando e da Gesa poi senza Gerlando infine sola seduta su un masso all'ombra di un olivo centenario guardava tutta la riviera lontana che si incurvava appena a lievi lunate a lievi seni frastagliandosi sul mare che cangiava secondo lo spirale dei venti vedeva il sole ora come un disco di fuoco affogarsi lentamente tra le brume muffose sedenti sul mare tutto grigio a ponente ora a calare in trionfo sulle onde infiammate tra una pompa meravigliosa di nuvole accese vedeva nell'umido cielo crepuscolare sgorgar liquida e calma la luce di Giove avvivarsi appena la luna diafana e lieve beveva con gli occhi la maesta dolcezza della sera imminente e respirava beata sentendosi penetrare fino in fondo all'anima il fresco la quiete come un conforto sovrumano intanto di là nella casa colonica il vecchio mezzadro e la moglie riprendevano a congiolare ad anno di lei isticando il figuolo a provvedere ai suoi casi perché perché la lasci sola badava a dirgli il padre non t'accorgi che lei ora dopo la malattia ti è grata dell'affezione che le hai dimostrata non la lasciare un momento cerca di entrarle sempre più nel cuore e poi e poi ottieni che la serva non si corichi più nella stessa camera con lei ora lei sta bene e non ne ha più bisogno la notte che Orlando irritato si scrollava tutto a questi suggerimenti ma neanche per sogno ma se non le passa più neanche per il capo che io possa ma che mi tratta come un figuolo bisogna sentire che discorsi mi fa si sente già vecchia passata e finita per questo mondo che vecchia interloquiva la madre certo non hai più una bambina ma vecchia neppure e tu ti levano la terra incalzava il padre te l'ho già detto sei rovinato in mezzo a una strada senza figli morta la moglie la dote torna ai parenti di lei e tu avrai fatto questo bel guadagno avrai perduto la scuola e tutto questo tempo così senza nessuna soddisfazione neanche un pugno di mosche pensaci pensaci a tempo già troppo ne hai perduto che speri con le buone riprendeva manierosa la madre tu devi andarci con le buone e magari dirglielo vedi che n'ho avuto io di te l'ho rispettato come tu hai voluto ma ora pensa un po' a me tu come resto io che farò se tu mi lasci così alla fin fine santo dio non deve andare alla guerra e poi soggiungere tornava a incalzare il padre puoi soggiungere vuoi far contento tuo fratello che t'ha trattata così farmi cacciar via di qua come un cane da lui è la santa verità questa bada come un cane sarai cacciato appedate e io e tua madre poveri vecchi con te gherlando non rispondeva nulla ai consigli della madre provava quasi un sollievo ma irritante come una vellicazione le previsioni del padre gli muovevano la bile lo accendevano d'ira che fare vedeva la difficoltà dell'impresa e ne vedeva pure la necessità impellente bisognava a ogni modo tentare e leonora adesso sedeva a tavola con lui una sera a cena vedendolo con gli occhi fissi sulla tovaglia pensieroso gli domandò non mangi che hai quantunque da alcuni giorni egli s'aspettasse questa domanda provocata dal suo stesso contegno non seppe sul punto di rispondere come aveva deliberato non seppe sul punto rispondere come aveva deliberato e fece un gesto vago con la mano che hai insistette leonora nulla rispose impacciato gherlando mio padre al solito da capo con la scuola domandò lei sorridendo per sospingerlo a parlare no peggio disse egli mi pone davanti tante ombre ma affligge col col pensiero del mio avvenire poiché lui è vecchio dice e io così senza né arte né parte finché ci sei tu bene ma poi poi niente dice via tuo padre rispose allora con gravità leonora sto chiudendo gli occhi quasi per non vedere il rossore di lui dia tuo padre che non se ne dia pensiero ho provveduto io a tutto digli e che stia dunque tranquillo anzi già che siamo a questo discorso senti se io venissi a mancare ad un tratto siamo nella vita e nella morte nel secondo cassetto del canterano nella mia camera troverai in una busta gialla una carta per te una carta ripete Gerlando non sapendo che dire confuso di vergogna e leonora accennò di sì col capo e soggiunse non te ne curare sollevato e contento Gerlando la mattina dopo riferì ai genitori quanto gli aveva detto eleonora ma quelli specialmente il padre non ne furono per nulla soddisfatti carta imbrogli che poteva essere quella carta il testamento la donazione cioè del potere al marito essa non era fatta in regola e con tutte le forme il sospetto era facile atteso che si trattava di una scrittura privata ad una donna senza l'assistenza ad un notaio e poi non si doveva aver da fare col cognato domani uomo di legge imbroglione processi figlio mio io te ne scampi liberi la giustizia non è per i poverelli e quello là per la rabbia sarà capace di farti bianco il nero e nero il bianco e inoltre quella carta c'era davvero là nel cassetto del canterano o glielo aveva detto per non essere molestata tu l'hai veduta no e allora ma ammesso che te la faccia vedere che ne capisci tu che ne capiamo noi mentre con il piluolo là non ti lasciare infinocchiare da ascolto a noi carne carne che carta così un giorno Eleonora mentre se ne stava sotto a quell'olivo sul ciglione si vide all'improvviso accanto Gerlando venuto furtivamente era tutta avvolta in un ampio scialle nero sentiva freddo quantunque il febbraio fosse così mite che già pareva primavera la vasta piaggia sotto era tutta verde di biade il mare in fondo placidissimo riteneva insieme col cielo una tinta rose un po' sbiadita ma suavissima e le campagne in ombra parevano smaltate stanca di mirare nel silenzio quella meravigliosa armonia di colori Eleonora aveva appoggiato il capo al tronco dell'olivo dallo scialle nero tirato sul capo si scopriva soltanto il volto che pareva anche più pallido che fai? le domandò Gerlando mi sembri una madonna addolorata guardavo gli rispose lei con un sospiro socchiudendo gli occhi ma lui riprese se vedessi come come stai bene così con codesto scialle nero bene disse Eleonora sorridendo mestamente sento freddo no dico bene di 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 figura spiegò egli balbettando e le sedette per terra accanto al masso Eleonora col capo appoggiato al tronco richiuse gli occhi sorrise per non piangere assalita dal rimpianto della sua gioventù perduta così miseramente a diciott'anni sì era stata pur bella tanto a un tratto mentre se ne stava così assorta si intese scuotere leggermente dammi una mano le chiese egli da terra guardandola con occhi lustri e la comprese ma finse di non comprendere la mano perché gli domandò io non posso tirarti su non ho più forza neanche per me e già sera andiamo e si alzò non dicevo per tirarmi su spiegò di nuovo gherlando da terra restiamo qua al buio è tanto bello così dicendo fu lesto ad abbracciarle ai ginocchi sorridendo nervosamente con le labbra aride no gridò lei sei pazzo lasciami per non cadere si appoggiò con le braccia agli omeri di lui e lo respinse indietro ma lo scialle a quell'atto si svolse e come ella se ne stava curva su lui storto in ginocchio lo avvolse lo nascose dentro no ti voglio ti voglio disse egli ancora come ebro stringendola via più con un braccio mentre con l'altro le cercava più su la vita avvolto nell'odore del corpo di lei ma ella con uno sforzo supremo riuscì a svincolarsi corse fino all'orlo del ciglione si voltò gridò mi butto in quella se lo vide addosso violento si piegò indietro precipitò giù dal ciglione egli si rattenne a stento allibito urlando con le braccia levate odì un tonfo terribile giù sporse il capo un mucchio di vesti nere tra il verde della piaggia sottostante e lo scialle che si era aperto al vento andava a cadere mollemente così aperto più in là con le mani tra i capelli si voltò a guardare verso la casa campestre ma fu colpito negli occhi improvvisamente dall'ampia faccia pallida della luna sorta appena dal folto degli olivi lassù e rimase atterrito a mirarla come se quella dal cielo avesse veduto e lo accusasse a